Quante volte ti capita di voler condividere l'emozione di un'immagine? E naturalmente di volerla vedere al meglio. Con Philips Picopix tutto questo è estremamente semplice. Philips Picopix rappresenta l'ultima innovazione nel campo della proiezione delle immagini. Una gamma di proiettori tascabili, estremamente leggeri, che permettono di portare sempre con te il tuo personalissimo bagaglio multimediale. Con i proiettori tascabili della gamma Picopix puoi proiettare, e condividere immagini e video in maniera veloce e immediata, ovunque ti trovi. Ma vediamo insieme le caratteristiche principali di tre diversi modelli. Picopix 1020 è l'ideale per il collegamento al notebook. Grazie all'alimentazione via USB non c'è alcun bisogno di batterie o alimentatori. Picopix 1230 ha una potenza di 30 lumen, può essere facilmente connesso ad un'ampia gamma di dispositivi, fotocamere digitali, smartphone, iPod, iPad, iPhone, ed è dotato di batteria interna che consente una perfetta portatilità per poter apprezzare la perfetta qualità video e la condivisione dei contenuti, ovunque ci si trovi. Le immagini vengono proiettate fino ad un formato di 80 pollici. PPX 1430 si differenzia dal precedente, in quanto è dotato di lettore MP4 integrato, che consente di utilizzare il proiettore come dispositivo stand-alone, in grado di visualizzare contenuti dalla memoria interna da 2 GB, da uno dei differenti tipi di memory card compatibili, oppure da dispositivi USB. L'utilizzo di una sorgente luminosa a LED, caratteristica comune anche agli altri modelli, assicura un basso consumo energetico. Ma dove proiettare le immagini? Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Sul muro di casa, ad esempio, oppure sul soffitto, comodamente sdraiati sul letto. Sarà divertente, inoltre, sfidare gli amici ai videogiochi, connettendosi al computer o a una console. Tutti i modelli PPX hanno una risoluzione di 800x600 e un contrasto di 500x1. Sono inoltre dotati di treppiede, altoparlante stereo e cavo USB e si adattano facilmente alle tasche o alle borse di tutti i tipi. Riassumendo le caratteristiche principali di PPX abbiamo estrema versatilità, dimensioni ridotte, elevata connettività, basso consumo energetico. Philips PPX, proiettare la tua vita non è mai stato così facile.